CIV Femminile E chiedo scusa, Gradara Corsa per Gioi Bruno e Tim Trasimeno per Natalia Rivera Le due vanno subito in fuga all'attacco facendo una grandissima differenza, suon di giri veloci anche sul passo dell'ottimo 2.11 In questo caso è Josephine Bruno a prendere la prima posizione seguita da Natalia Rivera Le loro spalle dal Zotto, Cicillini, Robotta cercano di inseguire ma non accade quello che era accaduto nella giornata di sabato Dove il gruppo si era ricompattato soprattutto nella seconda parte di gara Tanti sorpassi sia Rivera che Bruno cercano di rimanere davanti Alla fine però ci si gioca tutto all'ultimo giro Le avversarie sono abbastanza lontane quindi si può andare di strategia E nel finale si arriva la rivazza e nella discesa dalle acque minerale Attenzione l'attacco in rivazza 1 di Josephine Bruno che prende la prima posizione Bravissima, fa tanta velocità, riesce poi a difendersi anche in variante basse Va a vincere, vince la campionessa italiana, la neocampionessa italiana Vince questo appuntamento sia per l'europeo che per il Cib femminile Natalia Rivera è seconda e conquista comunque il titolo europeo WEC Moto 2024 L'attacco finale della stagione, l'ottobrevenza di un operario di Imola Il round XL e Moto nel tarlo 5, i campionati italiani a velocità nella giornata di sabato Cristian Borrelli e Bucci Moto Factory hanno conquistato con una gara di anticipo Il titolo tricolore si riparte comunque con un Borrelli ancora molto deciso Con noi Edoardo Savino e Martino Alberto Cagliuto Ci sarebbe anche Barbagallo nella Bagar per il secondo posto della classifica generale Ma un problema tecnico per lui qui, arriva a lungo Arriva a lungo, Gagliuto rischia tantissimo ma riesce a rientrare Nella partita si inserisce anche Matteo Gavarrini Team Ekovit, Pasini Racing, poi l'attacco deciso ancora una volta Il campione Cristian Borrelli su Edoardo Savino Con Gavarrini che cerca di recuperare terreno È Gavarrini però che ha un ottimo passo gara, riguadagna la terza posizione Attenzione, siamo alla dosa Rilompe di lungo Savino il contatto con la posteriore di Borrelli Finisce nella via di fuga, niente da fare K.O. così incredibilmente Il pilota del Leopard Academy by Rock and Day E quindi Barbagallo riconquista comunque il secondo posto in campionato Vanno nel finale di gara Borrelli e Gavarrini a giocarsi la vittoria Perché Gavarrini è saldamente terzo Ma lontano dalle prime due posizioni Gavarrini prova ad andare l'attacco E a guadagnare un po' di terreno nel finale Fa quasi tutto il giro davanti Ma arriva l'attacco di Cristian Borrelli In rivazza uno, perfetta La sua staccata, una pennellata a secca Si gioca tutto la variante bassa Prova all'esterno Gavarrini È impossibile E Cristian Borrelli va a vincere Doppietta a Imola per festeggiare insieme a Buggy Moto Factory Nel migliore dei modi questo titolo tricolore Secondo Gavarrini e terzo invece Matteo Gavarrini Superbike che chiude la sua stagione Atto finale Round XL Moto Dall'Opcir Campionato italiano velocità Qui a Imola Con il titolo già segnato a Michele Pirro Con il bianco vincitore Con la gara del sabato Con Lorenzo Zanetti Che ritorna La tabella numero uno Michele Sabato non ha vinto Soltanto per i sei secondi di penalità È una gara subito pazzesca Con Michele Pirro La nuova colorazione blu Dedicata alla polizia di Stato Lui che pilota nel gruppo Piamme Oro All'attacco su Alessandro Dio al bianco Yamaha DML Racing Ma c'è anche Zanetti Recupero con la Ducati del Broncos Racing L'attacco di del bianco Bellissimo La risposta di Michele Pirro Resiste del bianco ancora in prima posizione Poi Pirro si porta all'interno Le acque minerali dentro Al comando del bianco Che è quasi invitato A controbattere immediatamente La mossa dell'avversario Ma non ce la fa Si avvicina Zanetti Raggiunge i due rivali Va all'attacco all'interno Di del bianco Perfetto La variante del taburello Va a prendersi la seconda posizione E si prepara ad attaccare Anche Michele Pirro Il pirota del Ducati Barli Spark Racing Team Per la prima all'interno Lorenzo Zanetti Perfetto Un'altra volta E poi del bianco Su Michele Pirro Pericolosissima La staccata Alla Rivazza Uno Rischia anche Michele Pirro In fase di accelerazione Quasi in desca Un high side Si salva E conserva La terza posizione Errore Per Zanetti Alatosa Viene passato Prima da del bianco E poi anche Da Michele Pirro E una gara Senza respiro Del bianco E Pirro Pirro Forse arriva un po' lungo Il contatto Con la passione Del bianco Esce nella via di fuga Miracolosamente Con grande bravura Riesce a rimanere In piedi Lorenzo Zanetti A questo punto Strada spianata Verso la vittoria Vince Lorenzo Zanetti Le sue spalle Succede di tutto Ma alla fine Del bianco A prendersi la seconda posizione Davanti a Cavalieri E al compagno di squadra Bernardi Poi Saltarelli E Pirro 600 Next Generation Che arriva All'atto finale Di questa Di questa stagione Con la sfida Ancora aperta 17 punti di vantaggio Per Davide Stirpe E lo Ducati Garage 51 By Barney Contro Luca Ottaviani Come di questa gara Con la MV Dell'Extreme Racing Service Va subito Davanti Davide Stirpe Tenersi fuori dai guai Attenzione Qui abbiamo Una caduta di Odrea Giobini Con la Ducati Le Broncos Racing Team Per fortuna Senza crami conseguenze Rischia qualche cosa Taccini Rimane davanti al gruppo Davide Stirpe Ma poi la situazione Si ribalta Perché Luca Ottaviani Passa al comando Passa al comando Passa anche Valtolini Fase complicata Per Davide Stirpe Che si ritrova addirittura Quinto nel gruppo Mantovani Ma incredibilmente Anche Mattia Rato Con la Ducati 2R Racing Pilota Che è impegnato In questo weekend Sia nella Supersport 300 che nella 600 Next Generation Mattia Rettamente Indiavolato Incontenibile Va che l'attacco Su Mantovani Va a prendere La seconda posizione Ottaviani Deve rimanere davanti Mentre Davide Stirpe Deve concludere Almeno nelle prime Sette posizioni È davvero È davvero al limite Qui Rischia 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 L'highside Addirittura in uscita Dalla variante alta La variante Cresini Poi si riprende Con un giro veloce Va all'attacco Ancora Luca Ottaviani Prende un pochino Di margine È ancora davanti E vince la gara Davanti Rato Fantastico risultato Con Mantovani E Valtolini Ma Davide Stirpe Ce la fa Ce la fa Sesta posizione Ed è il nuovo Campione italiano 600 Next Generation Con la sua Ducati Garage 51 By Varni Davide Stirpe L'ultimo atto Della stagione Ampiamente Confermato Il titolo Per lo spagnolo Marco Saluda E GP Project Racing Team Della loro Two wheels Polito Sono davanti A tutti Sin dalle prime Battute Ma attenzione C'è subito Un rischio Terrificante Con Eric Michelon Che rientra Della via di Funga per fortuna Senza nessun problema Poi Jacopo Villani Fuori dalle acque Minerali Tutti bravissimi Ad evitarlo Era nelle primissime Posizioni Inizio veramente A tutta adrenalina Per questa gara Marco Saluda Allunga Suon di giri Record Veloci Niente da fare Christian Lolli È in seconda posizione Ma più lontano Poi c'è un ottimo Dalio Ma risale Fortissimo Christian Daniel Junior Racing Team Lucky Racing Team Pilota americano In una prestazione Ultra convincente Dopo la quarta Posizione ottenuta Nella gara Del sabato Anche Casalboni Forte del secondo posto Del giorno prima Disputa una gara Tutta all'attacco Quindi Marco Saluda Solitario davanti Con un 15 secondi Di vantaggio Ma un gruppo Di piloti Inquadrati adesso Che cercano di recuperare Su Lolli Per provare a straffargli La seconda posizione Si avvicinano Sempre di più Ma Lolli Che riesce comunque A difendere la posizione Per sé Per il Cecchini Racing Team Arriva un altro successo Per Marcos Ruda G.P. Brog Racing Team Giù il Spolito Va a cogliere Un'altra grande Vittoria Seconda posizione Per Christian Lolli Cecchini Racing Team Dalio cade Proprio nel finale Purtroppo E terzo invece È arrivato appunto Christian Daniel Junior Lucky Racing Team Si chiude il Dallop Civ Round XL Moto Del campionato italiano Velocità L'autodromo Inzedino Ferrari Di Imola Con la Supersport 300 Che deve ancora Segnare il titolo Si arriva fino all'ultimo C'è ancora un vantaggio Per Alfonso Coppola In classifica 16 punti Su Emanuele Cazzaniga Ma Alfonso Coppola È infortunato Una brutta caduta Nelle prove E quindi seriamente In difficoltà Dal punto di vista fisico Emanuele Cazzaniga Subito arrembante Invece nella prima fase Però dai primi crono Coppola dimostra Di non poter stare Con i primi due C'è infatti Mattia Arato In fuga con Emanuele Cazzaniga Ma di poter lottare Per il podio Di conseguenza Anche per il titolo Tricolore Grande weekend Anche per Mattia Arato Con la sua Kawasaki Del 2R Racing Ha corso anche nella 600 Appena conquistato il podio Ed è già in sella Alla 300 A contendere la vittoria All'amico e rivale Emanuele Cazzaniga Con la Yamaha Del Race Star Grande bagarre Le loro spalle Bollani Appunto Coppola C'è Iannazzo C'è anche Plazzi Una super sfida Giacomo Zannoni Con Uno scatenato Alfonso Coppola Che stringe i denti Sopra il dolore Con la Kawasaki Del box Pedercini Corse Qui un lungo Pericoloso Ma riesce ad evitare Un pericoloso contatto Coppola Si arriva nel finale Con Una grandissima vittoria Per Emanuele Cazzaniga Yamaha Race Star Seconda posizione Per Mattia Rato Fantastico Kawasaki 2R Racing Ma il quinto posto Finale Di Alfonso Coppola Mentre Bollani Completa il podio Il quinto posto Di Alfonso Coppola Regala A questo piloti Al box Pedercini Corse Il titolo Italiano Super Sport 300 2024 Ultima gara Per questa Categoria Che chiude Una storia Durata anni Veramente Molto molto Intensi Spettacolari Sarà poi Sport Bike